ragazzi buongiorno oggi video sorpresa molto breve per darvi un messaggio importante allora tante donne mi scrivono che appunto frequentano comunque stanno insieme a degli uomini che con i quali non si sa bene che tipo di relazione c'è perché magari una volta si fanno sentire 10 no oppure non fanno quello che promettono di fare questa è una cosa che è successa a me tante tante volte che magari mi scrivevano tanti messaggi però poi nel concreto non c'era nulla e quindi noi qual è il problema che poi ci pensiamo pensiamo cioè stiamo sempre a pensare a quelli a quella persona come se fosse praticamente lui diventato lui il centro della nostra vita e noi donne ci caschiamo tantissimo in questo in questa trappola e siccome ci sono caduta anche io tante volte proprio ho messo degli uomini letteralmente sul piedistallo cioè praticamente la mia vita non contava più non è che non contava più però i miei pensieri erano dominati prevalentemente da questa da queste persone e quindi niente tu c'è magari mi svegliavo e pensavo oddio ma se mi avrà scritto mi ha mandato qualche messaggio ero molto molto ecco il focus della mia vita era su queste persone su questi uomini quindi che cosa che cosa puoi fare se ti senti in realtà trattata come una un'opzione cioè dentro di te tu lo senti che non sei al centro della vita di questo uomo di questa persona con cui ti stai frequentando perché non c'è corrispondenza tra parole azioni perché dentro di te senti proprio che la sua energia come dico sempre non è costante verso di te intermittente di volucette di natale e senti che c'è qualcosa che non va cioè noi donne poi siamo molto sensibili le sentiamo queste cose quindi che cosa puoi fare per evitare di cioè perché poi queste cose qui causano anche a noi ansia insicurezze ci fanno essere insicure no e non c'è più cosa più brutta che una donna che non si sente sicura di se stessa che non si sente valorizzata che non si sente amata per quello che è che è costretta a fingere perché poi tante volte anche io sono stata costretta magari per catturare no l'attenzione delle persone che mi piacevano di fingere cose che non ero però poi ho detto cioè dopo aver elaborato aver preso consapevolezza di queste dinamiche di questi comportamenti che stavo mettendo in atto pur di piacere a un uomo che insomma in quel momento mi interessava perché magari chissà che cosa ci avevo visto ecco ci snaturiamo ok questo non è la strategia giusta in amore non esistono strategie non ci devono essere io sono contro ogni tipo di strategia sono sull'essere per noi solo sono per essere noi stesse ok dobbiamo essere noi stesse quindi innanzitutto che cosa ho fatto che cosa ti consiglio di fare se ti senti un'opzione e non una priorità per quest'uomo con cui ti stai frequentando evita di metterlo sul piedistallo ok e come si fa a evitare di metterlo sul piedistallo semplicemente ritornando nella tua vita cioè riaccendendo i tuoi interessi le tue passioni che cosa ti piace fare secondo me te lo sei scordato perché anche io fondamentalmente sempre per pensare come faccio per piacerli per non piacere mi ero dimenticata completamente di quello che mi interessava mi ero dimenticata completamente di me stessa e quindi ecco focus di nuovo su te stessa sui tuoi interessi sulle tue passioni che ti piace fare ti piace andare a camminare inizia con cose semplici se ti piace andare a camminare fatti quella passeggiata ti piace un tipo di musica ecco a me per esempio la musica mi ha salvato tantissimo perché la musica mi mette in uno stato vibrazionale diverso dalla vibrazione bassa dell'aspettativa o di stare ad aspettare il messaggio cioè è una cosa che mantiene le vibrazioni molto basse questo stato d'ansia di attesa che qualcun altro ci deve dare l'amore allora sentire una musica che ti piace intanto del benvenuto a moni elisa e angela se mi fate delle domande cioè se mi state facendo le domande purtroppo non le vedo perché non so perché facebook non me le fa vedere ma le vedo dopo quindi ditemi innanzitutto se questa cosa vi risuona se vi è capitato e quindi ecco ti consiglio musica musica a manetta quindi la musica per innanzitutto per alzare le vibrazioni di nuovo e poi e metterti in uno stato diverso ok perché magari la musica fa anche un effetto un po' shock fa un effetto shock nel senso che ti dà tipo uno schiaffetto dice oh ci sei buongiorno siamo ancora qui e poi una cosa importantissima oltre a ritornare in te stessa ritornare padrona della tua vita invece di far uscire fuori tutta la tua energia per pensare a quest'uomo che ti piace manifestati che cosa intendo esprimi quello che senti ok non ti trattenere le emozioni non ci sono come ti dico sempre in amore le relazioni niente giochetti bisogna essere dirette ok dirette quindi parla parla con parole dolci esprimi quello che senti guarda così io non riesco a non mi sento accolta non mi sento amata non mi sento cercata questa cosa mi fa stare male e mi non mi piace proprio esprimiti ok devi aprirti con questa persona e poi vedere le sue azioni quindi quello che lui fa quando gli dici veramente come ti senti quindi non devi fingere di stare bene devi dirgli proprio come ti senti guarda io veramente sto cercando senza diciamo proiettare le tue aspettative su quella specifica persona no ma dire io in questa fase della mia vita sto cercando una persona con cui condividere delle passioni in cui avere una relazione profonda quindi questa cosa qui diciamo di queste cose che stanno avvenendo tra di noi non mi fanno sentire al sicuro non mi fanno sperimentare quello che io voglio sperimentare ok quindi devi essere onessa sia prima con te stessa ovviamente e poi con l'altra persona e in maniera dolce ok non aggredendola perché non sta a quella persona riempire i tuoi vuoti ok quindi non è che tu te la devi prendere con lui non te la devi prendere con lui è più che altro una cosa che senti tu e la devi esprimere però in tutta tranquillità senza buttare fango sull'altro che magari non te lo sa nemmeno dare quella cosa che tu vuoi e poi però se tu vedi che una volta che hai espresso le tue emozioni non c'è seguito, non c'è un'azione magari ci sono solo parole di nuovo ancora buttate lì però non corrispondono a delle azioni devi agire drasticamente quindi parole dolci ma azioni drastiche che vuol dire che sparisci che non ti fai più sentire perché hai espresso quello che volevi però poi se non c'è più una corrispondenza tra azioni e parole se lui non ti ascolta veramente cioè non ascoltare solo con le orecchie se non ti ascolta e quindi non fa corrispondere delle azioni non fa delle cose devi essere drastica nelle azioni perché gli uomini capiscono molto le azioni più che le parole ok quindi parole dolci quindi esprimere in maniera delicata le tue emozioni però poi agire drasticamente quindi tagli di netto questo è quello che mi ha permesso nella mia vita cioè mi ha permesso di allontanare delle situazioni che per me erano diventate tossiche erano diventate io mi sentivo una mendicante fondamentalmente in queste situazioni dove erano sempre io che dovevo scrivere dovevo telefonare dovevo cercare di organizzare ho capito che non era questo quello che volevo e che mi faceva sentire una donna perché una donna vuole essere anche cercata una donna esprime con la sua energia femminile i suoi desideri però poi l'uomo c'è una danza non può fare tutto la donna o tutto l'uomo no non può essere questo quello non è amore è un'altra cosa quindi ricapitolando per evitare di piedistallizzare un uomo per evitare di sentirti un'opzione una seconda scelta un qualcosa che non si sa bene che cos'è focus di nuovo su te stessa ok? sulla tua vita alza le vibrazioni con la musica a me mi ha aiutato tantissimo quindi proprio per avere uno scossone per dire oh! ci siamo! ricordiamoci di noi e secondo punto esprimi quello che senti nel tuo cuore le tue emozioni io mi sento tot questa cosa mi fa sentire così parole dolci però azioni drastiche taglia di netto se vedi che non c'è ascolto dall'altra parte altrimenti continuerai a trascinarti delle situazioni che ti fanno stare sempre nella lamentela sempre a dire madonna e però devo fare sempre tutto io e però questo e però quest'altro il mondo è abbondante ragazze è abbondante ok? quindi non ci fissiamo su quella singola persona perché magari ci attrae fisicamente perché c'è la chimica bla 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 la chimica è perfetta però non è che possiamo basare c'è un rapporto non si può basare soltanto sulla chimica perché se no cioè la chimica ci deve stare cioè io sono per la chimica nel senso che se uno non mi piace non riesco a continuare nulla ma ci deve essere la comprensione l'ascolto reciproco ci dobbiamo sentire accolte ragazze ci dobbiamo sentire amate profondamente ascoltate capite ok? e lo stesso ovviamente dobbiamo fare noi con l'altra persona però se facciamo solo noi cioè se questa è una cosa unidirezionale se è una baciata che ballo solo io che senso c'ha Giuseppina scrive l'amore è reciprocità sia nell'amicizia che nell'amore esatto esatto tutte le relazioni si basano sulla reciprocità sulla danza a me piace usare mi piace ballare mi piace cantare quindi uso la metafora della danza immaginate una danza dove balla solo la donna o dove deve essere la donna che porta la situazione che porta l'uomo bruttissimo pure da vedere quindi fatemi fatemi sapere se questa diretta vi è stata utile sono riaperte le iscrizioni per il mio programma in 10 settimane diventa un magnete per uomini di valore e di solito facciamo una chiacchierata di 30 minuti per vedere se se appunto siamo un buon mezzo per lavorare insieme ti lascio nel primo commento il form da compilare per fare questo percorso insieme in cui impariamo anche proprio a riprenderci di nuovo il nostro potere di donne ok e a non sentirci più zerbine a non sentirci più mendicante riprendiamo il nostro potere e impariamo anche a distinguere sin da subito quali sono i tipi di uomini con i quali si può andare avanti e quelli che invece dobbiamo lasciare da parte per evitare proprio di sentirci cioè di instaurare delle relazioni tossiche fondamentalmente ok ragazze vi lascio questa è stata una diretta breve e improvvisata fatemi sapere pure se vi piacciono queste dirette così improvvisate magari ne faccio di più e vi do un bacione ciao ciao